Primo giorno da questore della provincia di Mantua per Giannina Roatta, che stamani incontrando i giornalisti delle testate locali si è dichiarata entusiasta del suo nuovo incarico che nei prossimi giorni la porterà a conoscere e a confrontarsi con prefetto, comandanti delle forze dell'ordine e referenti delle principali istituzioni. Ma da subito il suo obiettivo è conoscere al meglio città e provincia, un territorio che registra fenomeni sul fronte legalità che il questore conosce però molto bene, contro i quali è stata impegnata in prima linea durante la sua lunga carriera da ultimo come questore di Sabona, fra questi la violenza di genere. È una delle sfide, sicuramente anche il discorso del lockdown non ha sicuramente facilitato le relazioni di coppia o all'interno della famiglia e intanto è vero che c'è stato un aumento non soltanto dei reati connessi al rapporto di coppia ma anche di maltrattamenti in famiglia in generale. La chiusura è evidente che non ha aiutato. È sicuramente una sfida ma che va affrontata a 360 gradi ci vuole una sinergia, non è soltanto un problema tra virgolette di polizia ma è un problema diverso, un problema sociale. Il questore evidenzia come sul problema della violenza di genere sia importante il coinvolgimento delle scuole e auspica di poter ripetere a Mantova alcune importanti esperienze fatte a Sabona così come è importante il coinvolgimento delle scuole per problemi come il cyberbullismo, dichiara Roatta che ricorda tal proposito come nell'ultimo anno a fronte di una drastica riduzione dei reati in generale ci sia stato un aumento esponenziale di quelli informatici. Altro fenomeno preoccupante con cui Mantova combatte da anni è la presenza sul territorio della criminalità organizzata in particolare quella collegata all'Andrangheta. Al questore viene chiesto se ritiene si possa fare qualcosa di più o di diverso per combatterla rispetto a quanto fatto in passato, soprattutto pensando a come il Covid abbia permesso alle mafie di infiltrarsi ancora di più in alcuni settori dell'economia. Ma indubbiamente la pandemia, il lockdown ha sicuramente in qualche modo allettato certe organizzazioni criminali soprattutto in determinati settori, parliamo del settore della sanità per esempio anche molto. Quindi l'attenzione sicuramente deve essere alta in tutti i campi e questo è uno dei settori da attenzionare. Infine una domanda d'obbligo. Cosa si sente di chiedere ai mantovani? Ai mantovani? Io lo dico in generale a tutti i cittadini intanto di avere fiducia nelle istituzioni e di collaborare perché io sono fortemente convinta che è importante che ognuno, ogni anello della catena faccia il suo ma è il cittadino, è importante ascoltarlo, è importante che comunichi, che parli con le forze dell'ordine ma anche che se ha qualcosa da dire lo dica.